Sì, molto soddisfatti. Il Ministro ha dimostrato di togliere in pieno sia le domande che abbiamo fatto, ma soprattutto lo spirito con cui le abbiamo fatte. Uno spirito che non è soltanto di una richiesta passiva, ma di una richiesta attiva. Cioè nel senso che vogliamo essere attivi e propositivi nel portare avanti quello che noi abbiamo detto, anche a costo di aggiungere qualche cosa come aliquota nella gestione separatrice.